Proseguono i lavori alla scuola primaria di Soci per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico. 3 milioni di euro in tutto l'investimento grazie a due finanziamenti del PNRR. Un lavoro fondamentale perché questa è rimasta l'unica delle nostre oltre 10 scuole che doveva essere adeguata sia a livello sismico che energetico. E adesso lo faremo finalmente con un finanziamento grazie a un finanziamento che abbiamo vinto di oltre 3 milioni di euro dei quali circa 2 milioni e mezzo di opere edili per intervenire su questa scuola. Si tratta di un lavoro che prevederà come detto l'adeguamento sismico quindi lavori importanti nella struttura stessa ma anche l'efficientamento energetico quindi nuovi impianti, nuovi infissi, nuovo tetto che renderà questa scuola più sicura e più bella e più fruibile per i nostri ragazzi. E non solo, anche per gli insegnanti, per tutto il personale scolastico. Ricordo che siamo riusciti grazie anche al grande lavoro dell'ufficio lavori pubblici ma anche la disponibilità dei progettisti e della ditta stessa che ringrazio a dividere i lavori in due parti quindi i ragazzi, gli studenti sono in una parte che continua ad essere operativa e i lavori sono nell'altra metà scuola. Poi una volta finito questa fase andremo ad invertire quindi i ragazzi andranno nella metà scuola già ristrutturata e faremo i lavori dell'altra metà. Lavori che dureranno all'incirca da contratto un anno e mezzo chiaramente salvo degli imprevisti però siamo felici perché si tratta di un lavoro fondamentale appunto che sta nel contenitore degli oltre 15 mili di euro investiti nelle nostre scuole. Ricordo che proprio in questo momento è in costruzione il nuovo asilo nido di Bibbiena abbiamo inaugurato poco tempo fa la nuova scuola materna qui nella cittadina di Soci e è in corso anche la costruzione della palestra scolastica di Bibbiena e abbiamo appena concluso poche settimane fa l'efficientamento energetico di elementare Bibbiena. Quindi un panorama di interventi fondamentali, grandiosi che vanno nell'ottica di investire sul presente e sul futuro della nostra comunità perché i giovani, i ragazzi, le scuole sono un pilastro fondante della nostra società.